Le prime segnalazioni riguardavano la zona di via Pagliari nel quartiere di Ombriano, dove sono stati avvistati piccoli gruppi e movimenti sospetti con l'arrivo della sera, ma spaccio e vandalismi riguardano tristemente anche il centro storico. La rottura di vetrine si verifica sempre più spesso e non solo. Sia ragazzi che ragazze. L'abbiamo segnalato al comune più di una volta. Porcano dappertutto e in qualche posto hanno fatto il fatto che fanno le pipì sui muri e tutto rimane qui. E ci hanno detto che quando succedono queste cose bisogna chiamare la polizia. Però fino a quando arriva la polizia, la polizia e i ragazzi già sono andati via. Ogni tanto passano. Il centro è più movimentato, diciamo così, tra rotture di vetrine, tra magari i ragazzini che si divertono un po' di più a livello di controllo, però credo che ci siano, magari andrebbero intensificate, però comunque anche la disponibilità del comune c'è. Purtroppo è un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, nel senso che la maggior parte dei ragazzi giovani, vuoi per farsi vedere, vuoi per fare uno sgarro alle regole, stanno continuando a commettere comunque atti di vandalismo, atti illeciti, atti correlati allo spaccio e anche all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Molti addirittura si mettono poi alla guida, che sia poi di motorini o veicoli, andando poi comunque a causare dei seri incidenti. Quindi comunque è un fenomeno che va fermato perché... Andrebbero aumentati i controlli? Sì, però andrebbero aumentati i PM che convalidano gli arresti più che controlli. Perché se poi le forze di polizia controllano, ma ci sono i PM che non convalidano gli arresti, non serve a nulla. Nel Mirino spesso i negozi del centro con furti o anche solo danni alle vetrine o alla struttura.